ciao benvenuti sul mio canale io sono flori dal canale naturopatia e sono naturopata oggi vi parlo dei fiori di Bach sicuramente molti di voi li conoscono ma molti non conoscono i fiori di Bach che cosa sono a che cosa ci possono essere utile i fiori di Bach sono dei rimedi florale che possono aiutare a riequilibrare l'energia e controllare l'ansia come attacchi di panico e depressione quindi i fiori di Bach conosciuti anche come floriterapia sono un rimedio naturale basate sulle sostanze energetiche estratte dei fiori selvatiche quindi i fiori di Bach a cosa servono esattamente quindi il metodo di estrazione di principi curativi dei fiori quindi l'azione e l'efficacia furono studiate e perfezionate quindi nel secolo scorso il medico inglese Edward Bach che abbandonerò la medicina ufficiale per cominciare a seguire l'omeopatia e approfondire quindi l'analisi delle cause psicologici delle malattie quindi in seguito ai suoi studi quindi mise appunto un metodo di estrazione dei principi curativi dei fiori studiandoli e perfezionandoli azione e efficacia quindi la floriterapia che si differenzia della fitoterapia perché si serve degli estratti che racchiudono la forza energetica del fiore quindi mentre la fitoterapia sfrutta la sostanza, le sostanze terapeutiche agiscono sul disturbo quindi i fiori di Bach non sono neppure un metodo omeopatico ma che analisa invece malattia e sintomi e solo dopo quei studi psicologici infatti la floriterapia dà precedenza agli stati dell'animo che l'influenza e il malessere intervenendo sui primi incidi sulla malattia quindi i fiori di Bach sono 39 infusioni conservate nell'alcol che trasmettono al paziente l'energia del fiori e ristabiliscono l'armonia tra mente e il corpo Edouard Bach li ha divisi in sette gruppi quindi i sette sono le tipologie di stati di animo tra cui per la paura che ha cinque fiori per la incertezza che ha sei fiori per la solitudine che ha tre fiori per la disinteresse per il presente che ha sette fiori per la disperazione che ha otto fiori per la tendenza di lasciarsi influenzare delle idee altrui a quattro fiori eccesso di preoccupazioni per gli altri a cinque fiori e rimedio universale rescoremidi composto da cinque miscele infusioni miscelate che si chiama rescoremidi ovviamente è una sorta di pronto soccorso adatta sia ai gravi che leggeri stati di ansie dal tremore improvviso alla crisi respiratorie dall'attacchi cardiache ai sudori freddi eccetera vi saluto anche la mia gattina io vi ringrazio spero che vi è stato utile questo video se non sei iscritto al mio canale ti invito di farlo così per non perdere nessun video intanto vi saluto alla prossima ciao